Le parole della Sacra Scrittura non sono state scritte per restare imprigionate sul papiro, ma per essere accolte da una persona che prega, facendole germogliare nel proprio cuore. A me dà un po' di fastidio quando sento cristiani che recitano versetti della Bibbia come i papagalli. Ma tu sei incontrato con il Signore, con quel versetto? Non è un problema solo di memoria, è un problema della memoria del cuore, quella che ti apre per l'incontro col Signore. E quella parola, quel versetto, ti porta all'incontro con il Signore.